Rieccoci quindi per l'ultima parte per oggi qui su Play, qui su RBA, quantomeno per quanto riguarda la puntata di oggi chiaramente e proseguiamo un po' il discorso che ho avviato riguardo alle notizie diciamo puntuali del giorno perché come dicevo è passato un po' sotto traccia questo voto alla Camera che ha approvato, ha ratificato l'accordo tra Italia e Albania sulla gestione di alcuni richiedenti asilo ma quello è tutto un altro, insomma è una parte del discorso. Un'altra parte del discorso riguarda invece una parola chiave che forse anche questo è un po' sconosciuto in realtà il decreto flussi, c'è chi se ne occupa e chi ci impazzisce dietro, c'è chi invece lo legge sui giornali senza forse capirne molto e per capirne un po' di più interviene per fortuna per noi la rete Ero Straniero che abbiamo sentito molto spesso su queste frequenze e torniamo a parlare con loro perché ci hanno realizzato un rapporto proprio per fare le punte. Nella rete Ero Straniero c'è l'AFCEI, la federazione delle chiese evangeliche in Italia proprio per l'AFCEI. Raggiungiamo ancora una volta Giulia Agori, ciao bentornata su RBA. Piacere, piacere di ritrovarvi. Assolutamente, piacere nostro anche perché appunto ci devi spiegare alcune cose un po' complicate quest'oggi ma assolutamente preziose. Ho detto, abbiamo sentito molto spesso, abbiamo parlato molto spesso della rete Ero Straniero, magari non tutti l'hanno sentito, ci puoi riepilogare un po' di che cosa si tratta? Certamente, allora la campagna Ero Straniero è una campagna che nasce nel 2017, quindi ormai vari anni fa e propone, deposita la Camera una proposta di iniziativa popolare, raccoglie tantissime firme, più del necessario 90.000 firme, per proporre di cambiare la legge sull'immigrazione per lavoro. Perché è convinta la campagna che l'attuale legge, la legge che era in vigore nel 2017 e che in realtà ha visto pochi cambiamenti dal 2017 ad oggi, non va bene perché è legata al famigerato click day, probabilmente molti l'hanno sentito, perché è bene ricordare che in Italia uno straniero lavoratore che ha le skill e ha un'azienda che lo vuole fare entrare, non può entrare quando l'azienda serve e quando il lavoratore vuole, ma deve aspettare questo famigerato click day e deve aspettare di essere fortunato di entrare all'interno di un certo numero di quote, che sono puntualmente molto, molto più basse della domanda. Pensate che è stato calcolato che in Italia c'è un mismatch tra domande e offerta pari al 40%, quindi vuol dire che il 40% delle aziende o per farla facile anche di famiglie che hanno bisogno di badanti, tanto per dirle una, non riescono appunto a incontrare, a poter assumere il lavoratore che gli serve e c'è un altro grande numero di persone, lavoratori che potrebbero arrivare in Italia e contribuire all'economia italiana e non possono entrare. E quindi appunto la campagna è convinta che questo meccanismo del click day debba essere superato. Ora la campagna, dicevo, ha raccolto nel 2017 questa proposta di iniziativa popolare, purtroppo non è arrivato alla fine della legislatura senza approvazione, quindi che cosa è successo con la nuova legislatura? La PDL, la proposta di iniziativa popolare, ha perso validità, ma sempre con la nuova legislatura è stata reincardinata. Quindi diciamo attualmente la nuova proposta è di nuovo all'attenzione del Parlamento. Fondamentalmente però, come dicevo, dal 2017 ad oggi la situazione è sempre disfunzionale. È vero che nel tempo si è reso sempre più palese la necessità per le aziende, per l'economia, per le famiglie italiane dell'ingresso di nuovi lavoratori. E proprio per questo mismatch importantissimo, insomma, il 40% è un numero veramente rilevante. E quindi negli anni le quote ammesse durante i vari click day si sono ampliati, si sono aumentati. Ma puntualmente ad ogni click day succede sempre la stessa cosa, cioè ci sono tantissime domande che arrivano a fronte di quote molto più basse. Per darvi il dato quantitativo, nell'ultimo click day, che è stato a dicembre del 2023 dello scorso anno, c'erano 136.000 quote disponibili, sono arrivate 600.000 domande, che sono andate esaurite in pochissimi minuti. Quindi in qualche modo ha vinto il dito più veloce del West, quindi neanche una selezione in base alle skill, alle competenze, ma meramente chi è stato più veloce. e sono rimaste 464.000 aziende e famiglie che avrebbero avuto bisogno di lavoratori e non ora, o meglio, ora e non al prossimo click day che sarà a febbraio e poi ce ne sarà un altro il prossimo anno e sono rimasti senza personale oppure sono stati costretti a ricorrere al lavoro nero, parliamoci chiaro, creando nuova irregolarità. Chiaro, qui si apre chiaramente un argomento un po' delicato nel senso che fra le tante associazioni che fanno parte di Ero Straniero c'è Oxfam, Asi, Action Aid, Arcia, Buon Diritto, Children, Dimentico Senz'Alto Qualcuna, ma insomma sono tante. L'opinione diffusa rispetto alla gestione delle migrazioni è quella di un'accoglienza, quella di creazione di vie legali per il passaggio non basata strettamente sull'utilità della persona per le aziende. L'elemento aggiuntivo è questo, se esiste uno strumento effettivamente per mettere in collegamento le aziende e i lavoratori qualificati che servirebbero proprio immediatamente a quell'azienda, se quel strumento è carente, insomma siamo ancora a 3 o 4 o 5 passi indietro rispetto a quello di cui avremo bisogno questo è un po' il punto della campagna. Insomma un po' ci hai già raccontato come stanno andando le cose mi colpisce molto il titolo del dossier che avete realizzato per raccontare il tutto, parlate della lotteria dell'ingresso per lavoro in Italia, nel senso che appunto è qualcosa che è lasciato sostanzialmente al caso forse non esattamente ma all'incirca è quello. Esattamente, allora in questo rapporto che abbiamo presentato poche settimane fa è emerso un dato molto interessante intanto la campagna ormai da un anno forse anche più, da un anno e mezzo direi si è dotata di uno strumento molto particolare cioè l'accesso agli atti, cioè non ci basta come dire esperire il fallimento del sistema ma vogliamo andare a fondo e vogliamo capirlo anche dai dati quantitativi e quindi abbiamo fatto una serie di accesso agli atti, la campagna l'ha fatto in realtà anche per l'esito della regolarizzazione del lavoro domestico se vi ricordate del 2020, tirando fuori che in qualche modo a distanza di tre anni le pratiche sono ancora a carissimo amico e continua appunto con questo metodo di accesso agli atti a cercare di leggere meglio il fenomeno ed è emerso un dato molto molto interessante, cioè ovviamente abbiamo i dati del precedente click day non questo di dicembre 2023 perché è troppo a ridosso, stiamo ora facendo un nuovo accesso agli atti per avere quei dati lì del click day 2023 ma il precedente click day ha dimostrato che c'è una cosa molto particolare cioè non tutti i lavoratori che ottengono il nulla osta e il visto per l'ingresso poi entrano in Italia succede qualcosa che appunto stiamo cercando di capire per cui ci sono un certo numero di quote ma poi di fatto quelle quote vanno perse perché le persone non entrano una delle risposte che ci siamo dati è che i tempi burocratici per poi ottenere effettivamente il permesso il visto di ingresso sono talmente lunghi che vi faccio un esempio il lavoratore che viene chiamato per raccogliere le fragole, le fragole hanno una stagionalità ben precisa allora se la persona riesce a entrare in Italia quando ormai le fragole si sono marcite e nessuno l'ha più raccolte non serve più, quindi si aggiunge disfunzionalità su disfunzionalità quindi in realtà scusami, quei numeri molto bassi rispetto alle domande che vengono già molto bassi di per sé rispetto alle domande che ricevono risposta in realtà vanno ulteriormente abbassati nel senso che poi le persone che effettivamente arrivano sono ancora meno esattamente, e poi c'è un altro fenomeno e qui la FlyCGL ci ha aiutato e stiamo cercando di lavorarci su, forse è ancora più preoccupante per cui voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io che con la semplificazione, proprio per venire incontro a prestante necessità delle aziende di avere il lavoratore ora con la semplificazione il lavoratore può lavorare anche con il nulla osta quindi non serve aspettare arrivare in Italia, fare il permesso di soggiorno purtroppo la pratica è sempre molto lunga, quindi che cosa succedeva? che i lavoratori arrivavano in Italia, dovevano aspettare i tempi di ottenimento del permesso di soggiorno e nel frattempo l'azienda non aveva il lavoratore si è semplificata questa cosa e adesso è possibile che il lavoratore lavori regolarmente con il nulla osta ma che cosa succede? si è scatenato il fenomeno per cui un lavoratore paga per ottenere, un'azienda per essere chiamato arriva in Italia e questo nulla osta che gli dà il diritto di lavorare ma poi non gli dà nessun altro diritto in Italia, non è un permesso di soggiorno rimane solo con quello perché l'azienda sparisce perché ovviamente è un inganno l'azienda si è fatta pagare ma poi non ha la volontà di fare lo step successivo cioè rendere legale questo lavoratore e quindi siamo nel paradosso per cui un sistema di decreto flussi che dovrebbe in qualche modo combattere l'arrivo illegale di persone crea illegalità e incastra questi lavoratori in un meccanismo di frode perché appunto pagano per venire qui e crea nuove irregularità quindi questo in qualche modo ci conferma che bisogna assolutamente superare il sistema del decreto flussi non ha alcun senso che solo un certo numero di lavoratori possano entrare possono entrare solo durante la finestra del click day e che possono entrare solo alcune perché poi questa è l'altra cosa non qualsiasi lavoratore può entrare ma solo dei lavoratori in alcuni settori produttivi e di alcuni paesi di origine quindi non si va a intercettare il miglior lavoratore con le skill migliori per quell'azienda ma c'è tutto un difficile sistema di filtri che porta fondamentalmente a non far funzionare il sistema sia dal punto di vista della solidarietà che dell'utilità insomma le falle sono enormi lo stavi già un po' introducendo ti do il là per andare a chiudere l'intervista di oggi ma ne stavi già un po' parlando quindi insomma all'interno dello stesso rapporto c'è anche una parte proprio di proposta di richiesta, di appello rispetto a come muoversi da qui in avanti appunto lo stavi già un po' dicendo allarghiamo un po' il discorso che cosa chiedete esattamente allora noi abbiamo immaginato diversi meccanismi di ingresso anche per rispondere alla complessità dei bisogni e delle fatti specie dei lavoratori e dei bisogni dei lavoratori e delle aziende per cui anzitutto abbiamo immaginato un sistema più flessibile di assunzione diretta a chiamata extra quota cioè un'azienda banalmente conosce in contatto un lavoratore con le competenze necessarie può chiamarlo in qualsiasi momento dell'anno in qualsiasi settore gli sia di qualsiasi nazionalità gli sia e questa è la cosa più semplice poi ci rendiamo conto che questo funziona soprattutto per un lavoratore e un'azienda che già si conoscono e c'è il problema di trovare dei lavoratori che non conosco e magari avrei anche piacere di incontrarli fisicamente prima di assumerli e quindi abbiamo immaginato dei meccanismi di introduzione di un permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro che possano permettere al lavoratore di entrare ovviamente avere un permesso per ricerca di lavoro che può essere convertito in permesso per lavoro una volta ottenuto il lavoro ma in quella fase lui può presentarsi alle aziende può farsi vedere e quindi questo faciliterebbe e nella nostra idea, nella nostra proposta questo meccanismo di richiesta di permesso di soggiorno può essere attivato o dall'azienda, da uno sponsor oppure se il lavoratore può mettere a disposizione delle garanzie economiche direttamente dal lavoratore stesso peraltro questo è un sistema che già negli anni 90 esisteva per ricerca di lavoro e quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo e poi infine invece abbiamo pensato di introdurre un meccanismo per dare una risposta a quei tanti, tantissimi lavoratori che lavorano qui in Italia in nero o in grigio pensate ad esempio che nel lavoro domestico si stima che il 50% dei lavoratori che appunto vivono nelle nostre famiglie siano a nero e non tanto per una cattiva volontà del datore di lavoro di assumerli e che proprio questo sistema non lo permette e quindi abbiamo immaginato un meccanismo di regolarizzazione permanente per chi invece ha un lavoro a nero che potrebbe diventare un lavoro regolare o per chi ha un legame molto forte col territorio chi ha i figli che vivono qui chi conosce la lingua italiana meglio che la propria lingua di origine quindi se ci sono dei legami stabili ovviamente ha senso che la persona possa essere qui in modo legittimo, legale non come un fantasma senza diritti quindi questo è il ventaglio di proposte che la campagna sta avanzando chiaro che insomma così a prima vista non sembrerebbe niente di fantascientifico ma insomma la difficoltà sappiamo qual è noi vi abbiamo dato un po' un'infarinatura rispetto a questo dossieme è molto semplice andare a leggerselo per intero andare a recuperare tutto il lavoro di Erostraniero perché c'è un sito dedicato a erostraniero.it e da lì sopra potete recuperare tutto quanto il materiale io ringrazio moltissimo davvero Giulia Gori per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia che è appunto uno degli enti che fanno parte di questa rete grazie mille davvero, buona giornata e alla prossima grazie a voi, buona giornata a tutti noi ci vediamo adesso un brevissimo momento di pausa e ritorniamo tra poco con i saluti finali